Come mi sono sentito quando sono arrivato a Milano, sì? Ci ho pensato spesso, Salvo. Al coraggio, alla forza d'animo che ci vuole per lasciare la propria terra e andare a cercare fortuna altrove. Però tu almeno avevi un sostenitore, no? L'ingegnere Basile, che è quello che ti ha fatto partire, no?